Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi ci concentreremo sulle elezioni, parleremo di una tornata elettorale che riguarda anche un collegio che è quello di Siena perché quando si voterà per le amministrative che riguarderà anche diversi comuni in Toscana si voterà appunto nel collegio sienese anche per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati che derivano dal fatto che Piercarlo Paduan abbia lasciato il suo posto alla Camera per andare a dirigere Unicredit e quindi quel posto vacante di cui si è parlato tra l'altro molto perché sembrava potesse essere candidato in quel luogo anche Giuseppe Conte dopo che aveva smesso di fare il Premier invece non sarà così, probabilmente Conte potrebbe virare su Roma, notizia delle ultime ore, su Siena potrebbe arrivare Ricoletta ma su Siena sicuramente ci sarà Tommaso Marocchesi-Marzi per il centro-destra che abbiamo in studio e che saluto e ringrazio. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori, grazie per questa conversazione spero di interesse, si parla appunto di suppletive, si tratta di assegnare un posto alla Camera dei Deputati del Parlamento della Repubblica Italiana e di rappresentare un territorio, quello senese, complesso, bellissimo, fatto di mille sfaccettature molto difficili da sintetizzare se non con un'unica parola che è il richiamo alla bellezza, è un territorio splendido, fatto di grande cultura umana, storica, di grande senso di appartenenza, la mia famiglia senese, io sono colui che in famiglia si è fatto carico dell'attività vitivinicola di questa azienda che ha più di 150 anni di storia familiare, sono quello che nella famiglia ha percorso tutti i suoi studi, dall'elementare fino alla laurea a Siena. Quindi diciamo autoctono, diciamo così. Indigeno. Indigeno. Senta, siccome ci sono diversi argomenti per cui cercheremo di aprire una pagina importante su quel territorio, in parte il suo profilo l'ha già raccontato, ne parleremo ancora, le vuole chiedere soltanto una cosa, come fare campagna elettorale, lavorare sul territorio senza sapere chi sarà lo sfidante, ma immaginando che potrebbe essere comunque uno sfidante di peso, perché, lo diciamo subito, e poi insomma ormai è chiaro, ogni elezione i luoghi sicuri per vincere da una parte o dall'altra politicamente non ci sono più, perché il voto è sempre più fluido, però quel collegio viene considerato un collegio dove il centro-sinistra vince sempre e quindi dove vengono di solito candidate, persone che in qualche modo devono entrare in Parlamento, poi chiaramente se sarà Enrico Letta, come se fosse stato Giuseppe Conte, avrebbe anche una possibilità maggiore, però, come dire, lei si troverà a sfidare sicuramente uno sfidante importante, diciamo così, ma ancora non sa chi è. Come ho detto il giorno della mia presentazione ufficiale, 10 di maggio scorso, sarei ben lieto di avere un competitore, in questa corsa che pensiamo terminerà con l'ultimo fine settimana di settembre o il primo di ottobre, quando ci sarà questo election day che riguarda non solo le suppletive senesi, ma regioni Calabria, alcuni comuni importanti, tra cui la capitale, Roma, Torino, Milano. Venisse un candidato del PD o del centro-sinistra, più o meno appoggiato anche dal Movimento 5 Stelle, che avesse un nome di rilievo nazionale, che sarebbe incontento perché sarebbe il giusto modo per porre all'attenzione dell'intera nazione, dell'intero paese, problematiche proprie del collegio elettorale sia in Arezzo, da una parte, ma al tempo stesso sarebbe mettere in luce tutta una serie di carenze che vengono da una sciatta amministrazione locale, che ovviamente non è riconducibile alla mia area di appartenenza politica, che si è sedimentata nel tempo sino ad oggi. Quindi sarebbe il sistema per parlare in maniera molto chiara a tutto il paese di quello che è accaduto su una parte del territorio nazionale, del territorio della regione toscana, per una sorta di incuria, per una sorta di muro rosso, come l'ho definito il giorno della mia presentazione, ma in realtà più che un muro rosso, privo ormai come è di ideologia, è una sorta di muro di gomma. Nessuno disturba l'altro, si fa finta che tutto vada bene e nel frattempo franano i ponti, le strade non funzionano, le infrastrutture non funzionano, la logistica non funziona, la banca scompare dal nostro territorio. Ci arriviamo subito. Io prima però devo chiederglielo, Siena oggi, tra l'altro è governata dal centro-destra, quello anche per ribadire quanto, come dire, con il sindaco dei Mossi, quanto poi alla fine non esista più la Toscana russa, non esistono più luoghi, come dire, dove si è automaticamente convinti di vincere. Siena però, così come tutte le città italiane, ma soprattutto le città d'arte, ha subito un anno e mezzo di pandemia, al di là di chi la governava, perché purtroppo tantissime restrizioni, così come tutti i provvedimenti sono arrivati dall'alto e hanno riguardato tutti, ma oggi in qualche modo, anche rispetto al futuro, forse le città d'arte, ne parliamo spesso rispetto a Firenze, immagino valga anche per Siena, vedono il futuro anche più incerto di altri luoghi che invece in Toscana magari erano più indietro prima della pandemia. Come ne esce Siena da un anno e mezzo di pandemia? Siena ha una fortissima voglia di ripartire, si vede proprio dal comportamento dei cittadini senesi e già anche fortunatamente dalla presenza di turisti, per lo più italiani, però iniziano ad arrivare anche gli stranieri. Questo desiderio di uscire da questo anno e mezzo fantascientifico che abbiamo tutti quanti vissuto lo abbiamo potuto anche osservare in due momenti, purtroppo uno triste, entrambi non belli, devo dire, però con due sfaccettature diverse. Siena ha perso un importante attore della sua festa nazionale, della festa senese, Andrea Mari, questo fantino importante, il cordoglio che ha manifestato la città, indubbiamente ha fatto capire proprio l'attaccamento alla propria tradizione da una parte, ma anche il desiderio di uscire. Dall'altra, un altro tema appunto, il dispiacere che prova la città per non poter organizzare i suoi pali. Però sotto c'è questo desiderio fortissimo di ritornare alla normalità, che ovviamente è legato da come le vaccinazioni procederanno a livello nazionale. E nel frattempo, in questo anno e mezzo di pandemia, quello che ha potuto osservare Siena, quello che ha visto la città, è appunto carenza su aspetti strutturali, legati ovviamente al turismo, che l'amministrazione senese sta cercando ora di, ovviamente con i tempi, con i meccanismi, con le difficoltà ovviamente di un processo che si è attuato durante il contagio, quindi con tutti i dovuti meccanismi, perché questo potesse rimettersi in moto il più velocemente possibile, una mancanza di infrastrutture, di attenzione ad un comparto, che è quello turistico in generale, che ha bisogno anche di altri meccanismi, oltre a quelli semplicemente di avere bellezze culturali, bellezze artistiche, ha necessità di programmazione, ha necessità di comunicazione, ha necessità anche di infrastrutture per raggiungere la nostra città. Ci sono elementi che sono in generale comuni purtroppo a molti aspetti del nostro paese, però sono emblematici e nel caso di Siena questo essere un po' emblema, ripeto, di un certo disagio, è il motivo appunto per cui venisse un candidato di spessore nazionale, ci confronteremo su questi temi e finalmente, essendo io da imprenditore abituato al principio di realtà e a dire le cose come stanno, sentiremo eventualmente quali saranno le giustificazioni che avrà da dare, essendone in parte molto, molto cospicua, responsabile. Senta, veniamo un po' ai temi, cerchiamo di andare rapidi perché ne abbiamo diversi. Il primo lo citava lei, la banca, il Montripaschi, è un binomio con Siena, è inscindibile, insomma chiunque, in tutto il mondo, ad ogni latitudine sa quanto quella banca storica e importante dal punto di vista appunto storico della tradizione del territorio poi sia legata a Siena e come dire ridurre il ruolo della banca per Siena soltanto a quelle che sono comunque diversi posti di lavoro che vanno in qualche modo salvaguardati, ci dirà lei insomma quali possono essere le proposte, quali sono le prospettive, Siena e la banca sono talmente legati che poi alla fine l'indotto generato dalla banca è molto più ampio di quello appunto delle singole persone che ci lavorano dentro. Il rischio di Siena senza Montripaschi è quello di diventare una cittadina pur bellissima, dalle bellezze incredibili ma una bella perla di provincia e non più con quel ruolo, con quella vocazione internazionale che invece ha avuto in questi anni. Da una parte c'è questo tema, dall'altro c'è quello però della realtà, lei diceva sono una persona realistica, di una realtà, di una banca deve fare i conti con i numeri poi alla fine. Quali sono brevemente ovviamente in sintesi le prospettive? La banca più antica del mondo, un marchio che non è soltanto l'emblema di un istituto storico, ma che è anche in sé una forte identità territoriale. Quindi impossibile scindere il marchio dalla collocazione del quartier generale della banca su Siena. Quindi questa è in sostanza una sorta di linea, di rotta, che intendo seguire, come mi è capitato sempre anche ultimamente nella settimana passata, di ribadire. Perché in questo momento purtroppo il risico bancario, che non è soltanto nazionale, è un risico bancario mondiale dovuto ad aggregazioni fra grandi istituti finanziari, dovuti ai fenomeni legati alla smaterializzazione dei servizi bancari e della moneta. Purtroppo, o fortunatamente, la tecnologia sta superando la fisicità dei servizi bancari e dei luoghi della banca. Quindi questo è il contesto più ampio. Se si vuole, all'interno di un contesto italiano c'è una dinamica che riguarda grossi istituti finanziari, alcuni istituti con una vocazione più sulla banca d'affari che sulla banca di servizio. Quindi c'è una sorta di riposizionamento da parte di questi e degli istituti bancari. All'interno di questa fluidità data da dinamiche di mercato, dal contesto, la banca senese si trova in questo momento senza avere davanti a sé un percorso chiaro. Questo produce anche un forte sentimento di disagio da parte del personale stesso della banca. E non mi riferisco solo ai 3.500, 4.000 dipendenti che fanno riferimento al collegio elettorale di cui stiamo parlando, di cui circa un migliaio, 2.000, proprio relativi alle dinamiche della direzione generale su Siena. C'è come un forte sentimento di scoramento, di preoccupazione. Un'incertezza. Un'incertezza. E il personale invece della banca è un personale attaccatissimo alla bandiera, al simbolo del Monte dei Paschi, e comprendo il disagio anche psicologico che stanno vivendo in questo momento. Al tempo stesso prendere tempo, cioè non entrare in dinamiche frettolose di cessione della banca, al primo piuttosto che al secondo polo bancario. O di spezzatino anche, perché anche quella è un'opzione. Parleremo un attimo di questo, un secondo, perché è il tema che mi preoccupa più di tutti. Le spiegherò poi in che modo. Qualora la banca diventasse appetibile nella sua struttura attuale, vuoi per gli incentivi fiscali, vuoi perché in una dinamica di piano industriale e chi l'acquistassene vedesse nella sua struttura attuale, nella sua complessità, una complessità che va dalle Alpi allo stretto di Messina, vedesse in questa struttura un valore aggiunto, è in dubbio che la centralità di Siena, la centralità del marchio nel nostro territorio, il mantenimento di questa struttura, è un elemento da preservare, sia in termini occupazionali che in termini proprio di struttura industriale, di servizio bancario, che produce poi una ricaduta funzionale e sociale di crescita dell'economia e di mantenimento della coesistenza, della pacifica coesistenza all'interno del nostro territorio. Quindi questo è un elemento importante, indipendentemente dal primo, dal secondo polo, oppure dall'interessamento da parte di finanziatori che portassero anche i capitali freschi all'interno della banca. La cosa più preoccupante appunto è lo spezzatino, perché anche la settimana passata mi è stato chiesto quale potrebbe essere all'interno di una dinamica, sempre di mercato di questo tipo, il messaggio politico. Mi auguro di essere attore, visto che stiamo parlando di una decisione sul Monte dei Paschi di Siena, entro l'anno oppure entro la primavera 2022, quindi mi auguro di essere il portavoce del territorio all'interno di questa importante, difficile battaglia, perché in realtà lo è, lo spezzatino, quindi collocare una parte degli sportelli presso un polo di aggregazione nel nord-est e nel centro, un altro per il sud, con ovviamente un problema anche di ricaduta occupazionale. Alla fine sono meccanismi questi che non mi preoccupano, perché gli strumenti ammortizzatori sociali, incentivi all'esodo, quant'altro, li conosciamo, ci sono. Mi preoccupa la ricaduta più profonda sul tessuto del mio territorio, sul tessuto sociale ed economico. Quella è la vera preoccupazione che ho inteso esprimere, intendo esprimere, ed è qualcosa che non si riesce neanche a valutare in termini economici. Già all'inizio mi è capitato di parlare dello sportello, della filiale della banca, in certe piccole realtà della mia provincia, come un presidio, allo stesso modo dei carabinieri e della farmacia. Esattamente con la medesima funzione sociale di mantenimento del tessuto, da una parte, dall'altro di crescita dell'economia. Quindi lei dice, gli incentivi devono rimanere, se non addirittura potenziati, e provare a immaginare un piano industriale di ristrutturazione della banca, come dire, che guardi anche però al contesto che cambia, sostanzialmente. Indipendentemente... Velocissimo proprio. Indipendentemente da quali possono essere gli incentivi fiscali che lo Stato voglia produrre per il tramite... Esatto, mettere a disposizione di chi comprasse, indipendentemente dalle dinamiche di mercato, che ripeto, molto complicate. La barra deve essere dritta in questo senso, ovvero mantenere la centralità di Siena all'interno della sua struttura e rinviando anche la decisione, perché ovviamente la banca sta facendo bene e quindi questa sua appetibilità potrebbe crescere, da una parte, e al tempo stesso, qualora si presentasse la catastrofe dello spezzatino, le ricadute sociali vanno in altri termini, perché quelle sociali sulla banca stessa e sui suoi dipendenti ci sono le leggi. Ma io sto pensando ai investimenti infrastrutturali, a maggiore attenzione alla green economy, maggiore attrattività da un punto di vista turistico, umano, da un punto di vista manifatturiero della mia regione. Bisogna uscire da questa dinamica e spostarsi su un concetto di ammortizzatori sociali più ampi e di tema di crescita sociale dell'economia. Senta, economia, due o tre capitoli, del turismo diciamo in parte abbiamo già parlato, ce n'è uno però che tra l'altro la riguarda anche da vicino, ma allargando un po' è il tema dell'agricoltura, e di un vero e proprio contesto d'eccellenza da questo punto di vista, se ne parla spesso riguardo al vino, riguardo ad altri prodotti, che si lega irrimediabilmente con il tema ambientale. Cioè se non preserviamo, se non tuteliamo il nostro ambiente e non lo facciamo magari in maniera anche propositiva con nuovi strumenti, nuovi meccanismi, non si può garantire una sicurezza della terra, diciamo così, che poi sia quella che ci porta in dote nel mondo. Quanto sono legati questi due concetti, secondo lei, e soprattutto quali sono le prospettive anche qui da questo punto di vista? Allora intanto abbiamo un PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che credo concentri su quella che potremmo per sintesi definire la green economy, se non sbaglio più del 60% delle risorse disponibili. Quindi il tema è quello ovviamente di lavorare su tutti i temi di sensibilità ambientale, che non sono semplicemente le energie rinnovabili, fosse il solare piuttosto che l'eolico, ma dobbiamo ampliare il tema alla digitalizzazione, dobbiamo ampliare il tema al miglioramento di tutta quella logistica, di tutto quel software che riguarda le attività produttive, le attività umane, per ridurre il più possibile le emissioni, CO2, gas serra, il cosiddetto impatto ambientale. Vorrei fare un passo indietro per mettere in luce però poi quali sono anche le contraddizioni di una certa politica. Si è parlato di fare discariche di residui radioattivi all'interno di uno dei siti UNESCO della provincia di Siena. Quindi ci vuole anche coerenza. Probabilmente questa da un punto di vista politico sinora è mancato. Quindi, ripeto, far ricadere in provincia di Siena sui temi dell'ambiente, sui temi dell'agricoltura, con una dovuta semplificazione a livello di bandi perché l'agricoltura soffre molto anche di una difficile capacità di lettura di certi bandi legati a fondi europei dove la regione toscana ha inteso limitare e condizionarne l'accesso a tutta una sorta di requisiti che le singole aziende devono avere quasi sempre molto difficili da adempiere. Siamo in un momento di semplificazione, siamo in un momento anche di riflessione di quei vincoli tra cui il paesaggistico indubbiamente molto importante perché dobbiamo preservare l'integrità paesaggistica ambientale e culturale del nostro territorio aperto, delle nostre città, dei nostri paesi, però al tempo stesso dobbiamo essere in questo momento intelligenti, molto flessibili e non perdere questa occasione di riforma importantissima per il paese perché da qui in poi dopo avremo settato, avremo generato le condizioni per il lavoro, la sicurezza, la felicità delle future generazioni. Questo è un tema estremamente importante. Senta, siccome non manca molto devo farle ancora un paio di domande. La prima riguarda un altro tema importante, uno degli eroschitti economia, ambiente, il terzo inevitabilmente forse il primo sarebbe, a parte abbiamo parlato della banca, il tema delle infrastrutture. Perché se non c'è una spina dorsale che riguarda i trasporti, i trasporti intesi poi a 360 gradi che riguardano dagli aeroporti ai porti, laddove c'è la possibilità del mare a le ferrovie ad esempio di cui insomma anche il senese qualche problema ce l'ha e le strade ovviamente le infrastrutture viarie non si va da nessuna parte. Quello è l'asset strategico diciamo così per una regione smart o per territori smart. Ne abbiamo parlato spesso che cosa manca a Siena quali sono le vostre richieste, proposte, cosa si propone lei di fare se sarà in Parlamento? Siena non compensa la sua difficoltà di accesso stradale, ferroviario, altri mezzi di comunicazione con una società smart, una società digitale, una fibra velocissima, una precisa, puntuale assistenza ai cittadini, ai turisti, a coloro che volessero risiedere nel nostro territorio. non c'è una compensazione fra il disagio del viaggio e il piacere poi del soggiorno. Siena ha un turismo prevalentemente morde e fuggi, l'ho avuto per scelte di vario tipo e purtroppo ha scontato oltretutto accentuati dalla pandemia problemi che si sono appunto accumulati con il tempo. il nostro modo di affrontare il problema infrastrutturale è quello di entrare non soltanto in una dinamica di completamento, quindi abbiamo delle infrastrutture che necessitano investimenti e necessitano di essere completate. Mi riferisco alla Siena-Grosseto, un cantiere tutto era aperto, mi riferisco a questo famoso lotto zero che è il punto di congiunzione fra la Grosseto-Siena e la Siena in direzione Valdichiana sulla Uno ma penso anche alle infrastrutture immateriali cioè all'utilizzo intelligente di queste infrastrutture sia a livello di servizio pubblico con maggiore integrazione fra la gomma e la rotaia molto difficile pensare ad un raddoppio della linea ferroviaria per motivi meramente ingegneristici mentre invece penso certamente che quel servizio debba innanzitutto entrare in un meccanismo di connettività con il servizio pubblico su gomma ma in più rientrando nel tema ambientale passando anche ad un argomento di propulsione ad idrogeno cosa che vede ora la politica abbastanza vaga non prende posizioni su questo tema timidi segnali esatto mentre invece io da imprenditorio ho grande ottimismo e grande fiducia anche nell'evoluzione tecnologica e questo è un tema peraltro esistono già tre anni all'idrogeno tra Francia Svizzera Austria quindi si tratterebbe semplicemente di copiare entra in questo tema le accendo brevemente anche un l'aeroporto di Ampugnano piccolo aeroporto che non può pensare ad avere una sua vita autonoma se non all'interno di una dinamica di coordinamento regionale delle infrastrutture aeroportuali lo vedo più nell'ambito di un Toscana aeroporto ovviamente avendo all'interno di questa organizzazione un ruolo di aviazione general aviation aviazione da diporto velivoli privati e un utilizzo etico perché comunque esiste un trasporto organi un 118 per le emergenze sanitarie esiste comunque una necessità di un rilievo del territorio sto pensando anche alle problematiche del dissesto idrogeologico per arrivare ad una sintesi visto che abbiamo parlato di infrastrutture ma abbiamo parlato di banche abbiamo parlato di ambiente di investimenti ciò che è fondamentale per me nel mio messaggio peraltro una brevissima nota è in dubbio che la mia sia una candidatura politica dal momento che quattro partiti vedo il loro simbolo affiancato alla mia immagina però io sono un candidato non politico provengo dalla società civile non ho tessere in tasca ho fatto l'imprenditore ho lavorato da imprenditore studiato da imprenditore da buon amministratore delle mie attività di impresa quindi voglio portare questo valore aggiunto all'interno del contesto politico e del confronto politico un ulteriore elemento è quello appunto dell'appartenenza al territorio al fiere di questo territorio quindi visto che affetti ed interessi risiedono nel territorio senese sarà molto difficile per me abbandonarlo proprio per motivi che vanno al di là della mia esperienza politica ritornando sul tema e credo che questa sia un po' la sintesi della nostra piacevole interessante conversazione se ha bisogno il suo territorio ha bisogno di acquisire attrattività l'attrattività parte da un banale principio che è quello di vedere la gente interessata non soltanto a visitare le nostre città le nostre campagne ma anche a viverci questo permetterebbe di recuperare case di recuperare strade recuperare servizi pensare in maniera più attenta anche alla qualità della sanità nella nostra provincia pensare che forse la chiusura di certi ospedali sparsi nel nostro territorio non è stata compensata da un'attenzione al servizio in pandemia un elemento che avrebbe servito ma senza una poderosa digitalizzazione del territorio diventa estremamente difficile durante la pandemia avrebbe aiutato la telemedicina ma non è fattibile oltre che per un problema legato appunto a come organizzare la telemedicina il problema è dovuto anche al fatto che la wifi la rete non arriva dove dovrebbe arrivare quindi penso sempre ai più deboli ma se noi lavoriamo per rendere attrattivo il nostro territorio favorendo investimenti recupero edilizio infrastrutture rendendo più vivibile la nostra provincia penso anche a degli incentivi fiscali riduzione dell'IMU per chi recupera fabbricati che sono abbandonati significa rimettere in moto questo processo di corretto mantenimento di corretta cura del nostro territorio significa rimanere attrattivi significa rimanere un luogo dove si vuole vivere e conseguentemente si vuole investire e in bocca al lupo allora Tommaso Marocchismaz grazie per essere stato con noi non si può dire più crepi il lupo perché c'è anche un tema ambientale salutiamo il lupo salutiamo il lupo oltre che i telespettatori e comunque insomma Tommaso Marocchismaz lo trovate per la campagna elettorale ovviamente in questi mesi anche d'estate è poi disponibile come dire al dialogo c'è un bel numero di telefono insomma anche sul volantino quindi evidentemente come dire aperto a qualsiasi discussione grazie intanto per aver accettato la nostra a tutti per averci seguito da casa noi terminiamo qui naturalmente ci vediamo domani buonasera a tutti a tutti